Il territorio 1623 è ora arrivato. Il mio WCG ha start. Il territorio 1623 è in grado di rinforzare. Milano, Romorelli, Milano Centrale, Torino Porta Susa, Torino Porta Nuova. Verificiamo ad occupare il posto a voi assegnate. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.